buonasera a tutti voglio chiedervi una cosa a voi youtube a voi youtube che teneva 20 iscritti che teneva 20 iscritti e all'improvviso e all'improvviso che succede che ho 18 iscritti non so forse per chi non vi piaci i miei video beh vi do gente che sta già a 40 50 iscritti e ancora a 20 anche ma voglio via però non fa niente